Buongiorno a tutti. Nel video di questa settimana parleremo di due argomenti. Il primo è questo, mostrato a schermo, che è quello che ho chiamato client-side routing. Quindi come possiamo abilitare quello stesso routing che fa Express quando selezioniamo, quando chiamiamo un API, il nostro server REST, anche nel client. E adesso andrò a spiegarmi meglio. Il secondo argomento che tratteremo questa settimana è invece l'autenticazione. Quindi come far sì che la nostra applicazione faccia login rispetto a un server con un utente o una password. E mantenga ovviamente questa sessione di login aperta finché l'utente non preme logout o finché non passa un determinato tempo o il server viene spento. In entrambi questi argomenti continueremo a utilizzare la nostra applicazione web che abbiamo realizzato nella settimana passata. Quindi continueremo a parlare di, in un certo senso, single page application. Applicazioni che vivono e funzionano all'interno di una singola pagina. Dove per singola pagina ricordiamo che in questo caso si tratta davvero di una singola pagina, nel senso che non c'è nulla al di fuori di questa pagina HTML. Ma in generale, quando parliamo di single page application, parliamo di un'applicazione il cui server fornisce una sola pagina HTML. E poi l'applicazione all'interno di quel contenitore della pagina HTML si ridisegna in modo tale da cambiare e anche simulare il comportamento di più pagine. Ecco, questo simulare il comportamento di più pagine è l'obiettivo di questa prima parte di queste lezioni settimanali. Appunto sul fatto che le applicazioni web, normalmente, hanno più di una pagina. Se noi pensiamo a questa applicazione, che è quella che abbiamo costruito in queste settimane, questo è sì tutto in una pagina, ma è anche, come dire, tutto servito ad una pagina HTML, ma è anche tutto in una pagina. C'è la pagina degli esami con un bottone che crea un modale all'interno della pagina, della vista, della visualizzazione degli esami, e c'è poi un menu laterale che agisce da filtro su questa stessa visualizzazione degli esami. Possiamo dire che questa ha una pagina intera, che è una pagina che è relativa agli esami. Se noi volessimo una seconda pagina, relativa per esempio a tutti i corsi a disposizione, o alle informazioni sullo studente che ha superato questi esami, la matricola, l'anno di prima iscrizione, quanti esami gli mancano, la media dei voti e quant'altro, potremmo immaginare di avere una seconda pagina qui che si chiama corsi, una terza pagina qui che si chiama profilo dello studente, e così via. Come facciamo a ottenere applicazioni web che appunto abbiano più di una pagina? Come vi anticipavo, in questa prima parte cercheremo di, e per questa settimana, cercheremo di costruire queste applicazioni web multipagina, mantenendo però il framework, mantenendo però l'idea di avere una single page application, cioè un server che fornisce una sola pagina HTML, la quale viene poi manipolata lato JavaScript, per apparire come un'applicazione web con più pagine. Per proseguire su questa strada, ho quindi realizzato una versione ridotta, diciamo così, dell'applicazione che abbiamo utilizzato. Un'applicazione che però, idealmente, contiene due pagine. Una, che è un'applicazione che ho chiamato UpOnline, che contiene appunto due pagine. La prima è quella relativa agli esami, che è esattamente la pagina che avevamo prima, senza la sidebar e senza il bottone di creazione di nuovi esami. Non perché non ci possano stare, ma solo per il fatto che, da un punto di vista dell'esempio, visto che andremo a complicare questa interfaccia, questa applicazione web, aggiungendo una seconda pagina che si chiama Corsi, e poi sempre questa settimana aggiungendo la funzionalità di login e di autenticazione, avere un'applicazione web un pochino più ridotta all'osso ci permette di capire meglio le modifiche e di mettere in evidenza queste modifiche, senza dover gestire tutti i filtri, senza dover gestire un form di creazione degli esami, eccetera. Quindi questa è una versione semplificata, ma appunto su due pagine, della stessa applicazione che abbiamo realizzato finora, appunto solo semplificata per motivi didattici, per meglio mettere in evidenza i cambiamenti e le modifiche che faremo. Prima per introdurre il routing, quindi per introdurre la possibilità di cambiare pagina, e poi per introdurre il login. Quali sono le caratteristiche delle applicazioni web multipagina? Come facciamo a supportarle? Qui in slide sono riportate alcune delle caratteristiche. Per esempio noi vorremmo poter cambiare tra diversi layout di pagina. Abbiamo il layout magari a singola colonna, il layout con la sidebar laterale a sinistra e una colonna più grande a destra, e così via. E vorremmo anche in applicazioni complesse, come è desiderata, gestire il flusso di navigazione tra le pagine. Quindi dalla pagina 1 vado alla pagina 2, e poi dalla pagina 2 col magari bottone indietro del browser torno alla pagina precedente, scrivo qualcosa nella URL del browser e vado in una nuova pagina del mio sito. Magari vorrei anche in applicazioni web complesse mettere un bookmark su una pagina specifica. Magari in questo caso voglierei mettere un bookmark sulla pagina esami o sulla pagina corsi. Ma ovviamente questo bookmark deve avere un indirizzo ben specifico che deve essere diverso tra esami e tra corsi. Vorrei anche, come desiderio, in un certo senso, evitare, se possibile, il caricamento delle stesse informazioni JavaScript o delle stesse informazioni CSS ogni volta che la pagina cambia. Soprattutto se quelle informazioni, se quel file, se quel codice è sempre lo stesso. Quindi vorrei permettere, se stiamo lavorando in JavaScript col fetch, per esempio, come stiamo facendo noi, il caricamento di alcune cose JavaScript e di alcuni file JavaScript che sono importanti per la mia nuova parte, per la nuova pagina, raggiungibile da una certa URL, ma non della pagina precedente. Vorrei, come altro desiderato, e queste sono tutte cose che sperimentiamo nella nostra navigazione su internet, mantenere lo stato attraverso le pagine. Cosa vuol dire mantenere lo stato? Beh, per esempio, se io sono loggato, ho fatto il login nella prima pagina, vorrei che questo login rimanesse anche sulla seconda. Se io ho un login che mi identifica con una certa icona e un certo nome, vorrei con la stessa icona e con lo stesso nome anche nella seconda pagina, anche se la pagina cambia contenuto. Non vorrei a ogni pagina fare login nuovamente, per esempio. e così via. Quindi per passare da quello che abbiamo fatto finora a applicazioni web un po' più complesse distribuite su molteplici pagine virtuali, su molteplici viste e ogni pagina allincata a una certa URL ci servono ancora un certo numero di caratteristiche. Quindi, per esempio, la gestione del flusso di navigazione. Caratteristiche che ci offrono ovviamente la possibilità di fare lo switch tra diversi layout di pagina. E qual è l'elemento che in tutto questo è caratterizzante per la navigazione web? L'elemento caratterizzante è una cosa che noi utilizziamo spesso e sono le URL. Le URL, in generale, in un sito, determinano il tipo della pagina o la sezione del sito. E nella nostra esperienza quotidiana cambiare una pagina vuol dire cambiare la URL e viceversa. Se scriviamo una nuova URL otteniamo una pagina a un sito completamente nuovo. E questa URL, come dicevo, può contenere o una nuova pagina oppure può portare a una nuova sezione della pagina. Per esempio, se scriviamo una certa URL cancelletto ancora qualcosa. Quell'ancora è un collegamento a una parte interna della pagina. Inoltre le URL sono molto, diciamo così, chiacchierone perché al di là di farci cambiare pagina contengono informazioni specifiche riguardanti la pagina che stiamo visualizzando. E questo l'abbiamo già visto in parte con REST. Ci permettono di capire, leggendole, se sono fatte bene, di che cosa stiamo parlando. Nel caso di REST scrivevamo slash corsi slash l'ID del corso per avere l'informazione sul corso identificato da un certo ID. E queste sono informazioni che la URL ci dà in automatico, ci dà gratuitamente. Di più, le URL possono essere condivise. Io posso copiare una URL e passarla a voi e voi, copiando la stessa URL nel browser, raggiungete la stessa identica pagina che io ho visitato. Possono essere salvate, aggiunte bookmark e sono appunto sufficienti per richiamare l'intera pagina. Inoltre, le URL e all'interno di un browser vengono anche utilizzate con i bottoni indietro avanti per navigare la loro storia. I bottoni indietro avanti del browser, questi, ci permettono questi ci permettono di andare alla URL precedente o alla URL successiva. Alcuni esempi. Per esempio, prendiamo Facebook come sito. Facebook ha, ovviamente, se scrivete facebook.com andate sulla sua root. Se visitate il profilo di una persona, la URL ha come informazione, per esempio, profile.name, nome.cognome, qualcosa che identifica il profilo. Se vediamo un post, vedremo posts in una specie di rest e un lungo numero che identifica quel post individuale. Se navighiamo su una pagina, potremmo trovare il nome della pagina come URL, quindi facebook.com slash il nome della pagina, che stiamo visualizzando. E se noi volessimo vedere, per esempio, tutte le mie pagine, potremmo avere slash pages slash punto di domanda category uguale your page. E vedete che queste, questi sono esempi reali, se voi li cercate su Facebook, se andate su Facebook e fate caso alle URL che visitate, li potete notare. con magari piccoli cambiamenti, che ci danno informazioni solo leggendo l'URL possiamo dire che questa è l'insieme delle pagine la cui categoria rappresenta le mie pagine, le tue pagine, your pages in realtà. Quindi ecco che questi URL ci appunto forniscono davvero le informazioni, già solo leggendoli. Ora, come possiamo far sì che un'applicazione web come la nostra, come quella che abbiamo realizzato per gestire gli esami, possa sfruttare la URL? Allora, la nostra applicazione che abbiamo realizzato fino alla settimana scorsa, se voi notate, manteneva sempre la stessa URL fissa a localhost 2.3000. Qualunque attività ne facessimo nella pagina, la URL rimaneva localhost 3000. non diventava mai localhost slash esami, non diventava localhost slash esami punto di domanda tutti o 2020 o così via, rimaneva fissa. E quindi avevamo appunto una sola pagina e una sola URL. Una pagina che ripeto, cambiava dinamicamente ma rimaneva sempre fissa. Allora, come facciamo ad aggiungere questo concetto di utilizzare le URL, concetto anche pratico, di utilizzare le URL per permetterci la navigazione tra le pagine alla nostra applicazione che abbiamo realizzato appunto finora. Abbiamo due approcci principalmente. Il primo è ristrutturare completamente la nostra applicazione. Ristrutturarla completamente utilizzando la programmazione server-side e di conseguenza la navigazione server-side. Cosa vuol dire? Vuol dire eseguire un approccio tradizionale in cui noi prendiamo la nostra applicazione che abbiamo realizzata finora e la ristrutturiamo interamente perdendo alcune cose e acquistandone altre. Cosa acquistiamo? Acquistiamo che ogni link ha nella pagina avrà un href che punterà a una nuova pagina html. Quindi avremo localhost 2.3000 slash esami che avrà magari un link a localhost 2.3000 slash corsi e questi esami e questi corsi sono davvero due pagine diverse fornite dal server. Quindi andiamo via dalla single page application di nuova intesa come un'applicazione web fornita attraverso una pagina dal server a un'applicazione il cui server fornisce tante pagine tante quanto servono 2, 3, 5 5.000 e cosa succede con la server site navigation o con la struttura server site? Succede che il browser richiederà una nuova url al server e a questa nuova url il server ritornerà una nuova pagina html in maniera analoga a quello che facevamo con rest e json il browser richiedeva una nuova url al server e il server invece di tornare una pagina html tornava una pagina un documento json pagina esattamente come documento che sarà renderizzata e creata sul server quindi non ci sarà più il server che ci fornisce una pagina html la quale poi chiama dei file javascript per disegnarsi ma sarà il server che ci restituisce una pagina ci prepara ci confeziona una pagina che il browser dovrà solo visualizzare e ovviamente se abbiamo dei file javascript in questa nostra applicazione e questi file javascript sono condivisi tra le due pagine ovviamente avremo anche una copia dello stesso file javascript tra le varie pagine quindi se abbiamo pagina 1 che contiene file 1.js e pagina 1 richiede tramite un link una nuova url la pagina 2 il server ritornerà pagina 2 e se pagina 2 ha bisogno dello stesso javascript di prima quindi 1.javascript allora pagina 2 il server fornirà nuovamente 1.javascript al browser come se il browser non l'avesse mai visto in un certo senso e questo appunto è un modo diverso di ristrutturare l'applicazione e di crearla mentre per ora nel nostro esempio degli esami o anche nel nostro laboratorio della to-do list abbiamo continuato a costruire siamo partiti dalla versione html con il css abbiamo aggiunto un po' di javascript abbiamo aggiunto la manipolazione del dom abbiamo aggiunto il fetch abbiamo aggiunto qui si tratta di ristrutturare e questo ristrutturare vuol dire che per esempio perdiamo alcune cose perdiamo il nostro file html così come abbiamo tipicamente perdiamo la buona parte di javascript che si preoccuperà di renderizzare la pagina perché tutto quello lo farà il server lo farà sempre javascript ma javascript nel server javascript in express e perderemo il fetch il fetch nelle applicazioni web create con la navigazione e create server side che quindi utilizzano la navigazione server side usano raramente limitatamente il fetch giusto magari per recuperare alcune informazioni ma non tutto e queste informazioni che magari il poco fetch utilizza non è detto che sia in json magari sono informazioni che vengono passate direttamente in html quindi è un modo proprio diverso di strutturare un'applicazione è in un certo senso un ripartire da zero rispetto a quello che abbiamo fatto finora sia sul server che non ci fornerà più json non ci fornerà più ipi rest sia sul client dove non avremo un html che carica dei file javascript che fanno tutto essenzialmente per la nostra applicazione si preoccupano di visualizzare tutto tranne alcuni elementi statici comuni e questo appunto come vi dicevo è l'approccio tradizionale che è un approccio semplice dal punto di vista della navigazione ed è anche perfettamente integrato nel browser perché è il modo classico per cui il browser è stato pensato ha alcuni svantaggi per esempio se la nostra applicazione dipende fortemente sul javascript come per esempio l'applicazione che abbiamo realizzato finora che quindi è una cosa abbastanza anomala per la parte server side passeremo avanti indietro tra server e browser diverse volte lo stesso contenuto gli stessi file javascript gli stessi file css perché ovviamente la nostra applicazione dipende fortemente già il javascript e l'altro svantaggio che è uno svantaggio un pochino più diciamo estetico che non funzionale è che quando clicchiamo su un link l'intera pagina si carica o si ricarica anche se dobbiamo cambiare una singola parola nella pagina quindi non solo quando dobbiamo passare da una pagina ad un'altra ma anche quando dobbiamo aggiornare un'informazione della pagina immaginate il form che abbiamo fatto l'altra volta con un approccio server side quando voi cliccate il bottone nuovo esame o nuovo task quello che attreste è una nuova pagina quindi una pagina che viene caricata da zero con il form voi compilate il form quando premete il bottone sottometti form con un approccio server side verrà caricata una nuova pagina che avrà l'elenco dei task o l'elenco dei esami aggiornato con il nuovo esame e se voi volete cancellare un singolo task come abbiamo fatto l'altra volta premendo su cancella con l'approccio server side mentre adesso vi sparisce una riga ma non c'è caricamento della pagina semplicemente una riga dove avete premuto cancella sparisce con l'approccio server side l'intera pagina viene caricata anche se si tratta solo di cancellare una riga dalla pagina quindi questo è un modo classico il modo tradizionale il modo che funziona è un modo semplice su cui è nato il web ma ovviamente ha le sue caratteristiche positive e caratteristiche negative e questo è quello che faremo la prossima settimana la prossima settimana prenderemo la nostra applicazione che per ora possiamo dire chiamarla come single page application fino a questo momento in tutti i sensi single page application è davvero una sola pagina servita da server ed è davvero una sola pagina che noi visualizziamo nel server e la porteremo con tutto quello che abbiamo fatto questa settimana nel server side quindi la costruiremo partendo da server invece che partendo da dei file json che sono inviati al browser il secondo approccio è invece quello che riguarda la navigazione client side per abilitare alla nostra applicazione single page la possibilità di avere più url e quindi in un certo senso essere comunque una sola pagina fornita da server ma fare finta che al suo interno ci siano diverse pagine e quindi poter passare dalla pagina esami alla pagina corsi come funziona la navigazione client side la navigazione client side prevede di avere tipicamente applicazioni come quella che stiamo realizzando quindi con una grossa preponderanza di javascript nel client nel browser e funzionano modificando la location la posizione dell'app quindi intercettando la url e simulando una risposta alla url allora mentre nell'approccio tradizionale che abbiamo visto nella slide precedente quando scriviamo una url o in generale quando scriviamo una url nel browser viene fatta una richiesta get al server che risponde con qualcosa pensate alla vostra esperienza normale col web o pensate al server rest che abbiamo realizzato funziona così scrivete un url e vi viene caricata una nuova pagina con le informazioni di jaser in questo caso noi andiamo a intercettare la url che scriviamo nel noi applicazione client side come quella appunto che stiamo facendo andiamo a intercettare le informazioni che sono scritte le informazioni della url andiamo a intercettare la url e facciamo sì che il browser prima di fare la richiesta al server faccia la richiesta a noi stessi in un certo senso quindi prendiamo questa url e cerchiamo di manipolarla e di gestirla all'interno dell'applicazione web client side se non ci riusciamo ovviamente la url andrà al server che la gestirà a modo suo quindi questo in linea teorica concettuale quello che capi in realtà è esattamente il contrario il browser fa una richiesta al server in ogni caso comunque se il server riesce a gestirla perché per esempio è un API rest la gestisce se il server non riesce a gestirla la gira in un certo senso la gira indietro al browser la gira indietro all'applicazione client in javascript che proverà a gestirla lui stesso quindi se noi scriviamo localhost 2.3000 slash se ci mettiamo in questo esempio di client site navigation e scriviamo localhost 2.3000 slash exams il server riceverà questa url questa url è una get alla sua API rest e allora risponderà con jasa se scriviamo localhost 2.3000 slash la mia pagina il server prenderà la mia pagina la url della mia pagina controllerà se è tra le sue API rest se non è tra le sue API rest dirà renderizzerà index.html e index.html a sua volta chiamerà il suo file javascript che si preoccuperà di vedere se questa url indicata nel browser può essere gestita virtualmente al suo interno se può gestirla la gestisce altrimenti darà un 404 e cosa vuol dire se può gestirla vuol dire che interagisce interagirà con queste html5 history API che sono tutta una serie di API che permettono a un'applicazione javascript client side di accedere alla history di un browser quindi alla cronologia di un browser accedere e manipolare la cronologia di un browser non solo accedere e manipolarla ma anche abilitare le funzionalità di indietro avanti e quant'altro e quindi permettono interagendo con queste history API di html5 quindi sono client side e si possono chiamare da javascript di avere quelle funzionalità proprie tipiche del browser nell'approccio server side quindi bookmark quindi avanti quindi indietro quindi la possibilità di salvare un'orl e passarla avanti indietro tra persone diverse tra browser diversi eccetera e ottenere sempre lo stesso risultato simulano da un punto di vista del client lo stesso comportamento che avremmo nel server e in questa navigazione client side ovviamente determiniamo quali elementi l'applicazione web una volta che riceve la url determinerà quali elementi dovrà renderizzare a una specifica posizione quindi se la nostra posizione è la lista degli esami vedremo la pagina degli esami se la nostra posizione sono i corsi vedremo la lista dei corsi e in principio quello che succede che vi ho detto prima è quando l'utente clicca o scrive e preme invio a una nuova url questa navigazione client side previene impedisce che il browser faccia la fetch faccia la get della nuova pagina e istruisce l'applicazione javascript di cambiare di aggiornare il contenuto visibile della pagina con qualcos'altro quindi di togliere quello che c'è attualmente e di inserire nuovi elementi html ora anche questo approccio che è l'approccio appunto tipico delle single page application proprio per permettere a queste single page application che lo ripeto di nuovo intendiamo come sempre come applicazioni web che vengono fornite tramite una pagina html ma poi al loro interno con tanto javascript o col javascript necessario permettono di cambiare il contenuto e quindi di visualizzare in un certo senso diverse viste diverse pagine anche se effettivamente la pagina html è sempre una sola ma la riempie in maniera diversa sfruttano questo approccio open side che ha alcuni vantaggi e alcuni svantaggi come prima tra alcuni vantaggi per esempio che non c'è più bisogno del reload quando clicchiamo su un qualcosa in maniera analoga come abbiamo fatto finora non c'è un ricaricamento della pagina ma c'è un aggiornamento immediato della pagina ovviamente di nuovo se siamo in una single page application quindi con un'applicazione web che ha tanto javascript come prima lo stesso contenuto di prima non è passato molteplici volte perché l'applicazione web ha già al suo interno il suo javascript e quindi il server non deve ripassare tutte le informazioni con diverse pagine perché in realtà abbiamo una pagina sola e l'altro vantaggio è che attraverso le history API questa navigazione client-side è integrata con la navigazione del browser e quindi sembra naturale sembra come nell'approccio tradizionale ovviamente abbiamo anche alcuni svantaggi quali sono questi svantaggi il primo è che questa interazione con la history API può essere difficile può sicuramente portare errori per la gestione della history per la gestione della cronologia perché a un certo punto noi ci mettiamo a manipolare leggere scrivere la cronologia del browser per capire cosa fare sono andati in una pagina adesso l'utente ha cliccato il bottone indietro e quindi cosa devo fare qual è la pagina indietro quindi tutto questo è ovviamente abbastanza complicato e pro ad errori se fatto manualmente ovviamente la navigazione client-side difficilmente si fa manualmente andando a gestire direttamente la history API ma ci sono librerie come era moment per le date ci sono librerie per la gestione della history per la gestione della navigazione client-side e ne andremo a vedere una fra poco e quindi questo svantaggio è uno svantaggio vero se fatto manualmente un po' viene minimizzato perché ci pensano delle librerie a gestire la history in maniera appropriata tanto più che indipendentemente dal sito web quando premiamo indietro vogliamo sempre andare alla pagina precedente alla visualizzazione meno uno diciamo e quando premiamo avanti vogliamo andare alla visualizzazione successiva e quando scriviamo una URL vogliamo raggiungere sempre la stessa pagina che richiaremo noi quindi non sono librerie sono librerie fatte con certi criteri ma non sono totalmente diverse da un sito all'altro un altro svantaggio è che tipicamente abbiamo bisogno di distinguere le root del client dal root del server se il server fornisce per esempio sia dell'API REST sia la nostra applicazione perché? perché se noi abbiamo un server che ha un API REST che ha localhost 2.3000 slash esami e noi abbiamo un client un'applicazione web che ha la stessa root la stessa URL ha localhost 2.3000 slash esami come fa il browser o il server o l'applicazione web l'applicazione JavaScript client side a capire se noi vogliamo la URL REST o vogliamo la URL del browser da visualizzare quindi c'è bisogno che lo sviluppatore in qualche modo distingua tra quali sono le API le URL che appartengono al server e quindi vanno gestite con la server side con l'approccio normale di un browser e quali sono invece le URL che vanno mappate sull'applicazione JavaScript client side e questa è una cosa che deve fare lo sviluppatore ovviamente questo è vero solo se il server fornisce sia dell'API REST o dell'API di qualche tipo e la nostra applicazione web client side se l'applicazione web fosse fornita da un server e un altro server quindi il mio server .com fornisse delle API diverse questo svantaggio per la navigazione non c'è più perché ovviamente c'è solo il server non ha URL non ha root ma ci sono solo quelle dell'applicazione web e quindi non c'è più bisogno di distinguere perché ci manca una o due parti di questa distinzione ovviamente nel caso di due server avremo altri tipi di problemi per esempio per il fetch perché non siamo più nella stessa origine quel course che vi accennavo l'altra volta però nel nostro caso in cui abbiamo tutto gestito da un server ci mettiamo nel caso facile per il course ma da tenere in considerazione per questo svantaggio e poi abbiamo due approcci che si possono utilizzare per esempio partendo dall'applicazione che abbiamo fatto noi che sono approcci sbagliati e ovviamente di questi approcci sbagliati parlo sempre tenendo in mente tenete sempre in mente che mi riferisco a un'applicazione web che si basa pesantemente sul fetch e sul rest di API quindi come quella che abbiamo fatto finora perché in altri contesti per esempio il contenuto di questa slide in un contesto tradizionale funziona benissimo è un problema solo nel nostro caso allora qual è il primo approccio sbagliato il primo approccio sbagliato è quello di cercare di adottare la navigazione server side con un'applicazione del nostro tipo perché è un approccio sbagliato io qui ho un esempio questa questa è questa è un'applicazione vedete ha esami punto html e poi ha una pagina se io clicco qui a una pagina corsi punto html e vedete che se io clicco cambio dalla pagina degli esami alla pagina dei corsi e la pagina si ricarica guardate cosa succede qui vedete io passo effettivamente da una pagina all'altra e quindi c'è un ricaricamento della pagina perché ovviamente io qui chiamo una nuova URL che mi fornisce una nuova pagina html la quale ha il suo javascript correlato quindi corsi e la sua pagina col suo javascript e esami è un'altra pagina col suo javascript e che cosa come sono fatte è la nostra stessa applicazione di prima in cui abbiamo sempre il nostro main ecco abbiamo sempre il nostro moment e abbiamo sempre il nostro API che era quello che chiamavamo task manager exam manager e abbiamo sempre il nostro esame che descrive come ho fatto un esame e a un certo punto ovviamente abbiamo cose diverse abbiamo prima avevamo una pagina index html con il nostro app e basta adesso abbiamo la pagina esami con la sua equivalente di app js che ho chiamato exam controller ma è la parte di app che avevamo prima relativa a esami e poi abbiamo la pagina corsi col suo course controller quindi l'app js relativa ai corsi quindi abbiamo due pagine e abbiamo duplicato abbiamo due pagine quindi abbiamo due app punto javascript che ovviamente ho dovuto chiamare diversamente e abbiamo in una delle due la descrizione di come ho fatto un esame come era prima e abbiamo il main che dovrà ovviamente creare sia course controller che è il vecchio app per i corsi e exam controller che è appunto il vecchio app ma solo per gli esami quali sono i problemi perché questo approccio è sbagliato abbiamo visto che funziona io cliccando su corsi e cliccando su esami lui mi carica una nuova pagina perché stiamo usando l'approccio server side tradizionale ha alcuni problemi anche in questa applicazione semplice prima di tutto course html e exam html sono praticamente identiche al 99% hanno questa barra in alto totalmente identica e hanno uno spazio per una tabella poi di qui questa tabella verrà riempita con i dati degli esami e di qui verrà riempita con i dati dei corsi ma questa barra in alto e magari altre informazioni che potremmo avere nella pagina informazioni statiche che possiamo condividere tra le due pagine sono identiche e quindi stiamo duplicando la stessa pagina due volte con due nomi diversi solo perché ci serve ovviamente course controller ed exam controller condividono un sacco di codice in questo caso un sacco è un parolone perché è un'applicazione molto semplice che alla fine va a riempire una tabella però hanno diverso codice in comune in comune vuol dire che il codice di exam controller è copiato dentro course controller quindi se qui ci fosse un errore ci sarebbe sicuramente anche qui perché perché la logica di funzionamento sia di corsi che di esami è la stessa entrambi importano main che poi chiama o exam controller o course controller e appunto l'altro problema diciamo così è questo main che ha bisogno per creare la giusta versione di app quindi per creare la app di esami o la app di corsi di controllare la url quindi in un certo senso di andare a chiedere a browser dimmi qual è la url che sto vedendo dimmi se sto vedendo dimmi se sto vedendo corsi o se sto vedendo esami perché se sto vedendo esami andrò a chiamare exam controller se sto vedendo corsi devo chiamare l'altro perché se no essendo un file condiviso tra corsi ed esami ovviamente lui deve capire quale dei due deve chiamare l'alternativa era di avere due main un main per esami e un main per corsi dove il main per corsi chiamava il suo la sua app e il main per esami chiamava il suo controller ma questo voleva dire duplicare anche questo file che faceva esattamente quello che fa questa versione con una riga diversa invece di dire new exam controller l'altro file era identico al 99% diceva new course controller quindi funziona abbiamo visto ma con qualche problema l'altro approccio è questo è quello di utilizzare di mettere di avere un'applicazione single page come abbiamo fatto finora e di agganciare un click un evento di click a il bottone esami al link esami al bottone al link corsi quindi per esempio scrivo una cosa del genere se il link nella barra di navigazione contiene esami allora creiamo un click listener su questo link e mostriamo gli esami se il link contiene corsi cioè else dato che ce ne sono solo due agganciamo un click un event listener di tipo click al secondo link e mostriamo i corsi essenzialmente essenzialmente scusate oggi essenzialmente abbiamo agganciato un event listener a questo di click e un event listener a questo quindi quando clicchiamo su esami visualizziamo la pagina di esami quando clicchiamo su corsi visualizziamo la pagina su corsi e notate che a localhost 3002 l'ho cambiato porta per farne funzionare due alla volta contemporaneamente e non si vede niente perché ovviamente non abbiamo ancora cliccato nei suoi esami e nei suoi corsi quindi se noi clicchiamo su esami vedete che la url diventa cancelletto exam perché ci porta a questa visualizzazione e se schiacciamo su corsi vediamo i corsi e qui c'è scritto corsi e viceversa io posso continuare e lui continua a funzionare qual è il problema di questo il problema ma al di là del fatto che quando vado su localhost 3000 o 3002 come in questo caso non vedo niente è che per esempio la navigazione del browser non funziona se io clicco indietro vedete la url cambia ma il contenuto no la url dice esami ma il contenuto dice corsi quindi la url viene cambiata ma il contenuto della pagina non viene cambiato perché il contenuto della pagina non viene cambiato ma perché il contenuto della pagina è scatenato da un click su un certo link e tornando indietro non rigeneriamo non possiamo rigenerare l'evento di click e quindi questo approccio al di là del fatto che non funziona e che rompe la navigazione del browser appunto non la rende funzionante che è il problema più grande sicuramente non ha il problema di richiedere codice duplicato perché in questo caso non c'è in questo caso abbiamo due metodi una volta chiamiamo show exam e l'altra volta chiamiamo show courses e abbiamo un if per agganciare un event listener ma richiede di avere un event listener esplicitamente definito per ogni singolo link della pagina e questo appunto è un problema minore il problema maggiore di questo approccio a differenza di quello di prima che funzionava ma richiedeva grosse duplicazioni di codice nell'approccio single page application e che non funziona non funziona attraverso la navigazione del browser e non rende le url univoche non rende le url univoche se ne qui scriviamo courses la pagina rimane se ne scriviamo exams la pagina non cambia quindi non aggancia la url al contenuto del browser e quindi non sta funzionando come dovrebbe non sta funzionando come per esempio funziona qui dove se qui adesso scriviamo courses effettivamente viene caricato l'altra pagina quindi questo è un comportamento che ci aspettiamo il comportamento del click è un comportamento che non ci aspettiamo come evitiamo questi approcci sbagliati e implementiamo l'approccio della client side navigation è oggetto del prossimo video grazie a tutti